benvenuti benvenuti alla nostra sesta puntata dei giardini pensili tra virgolette hanno fatto il loro tempo ed è un grande onore per me per noi per me per marianza avere questa sera come ospite un una grande persona un grande attore uno scrittore un viaggiatore e una persona deliziosa che è giuseppe cederna buonasera a tutti grazie grazie mille che presentazione intanto era il minimo che io sono un fan innanzitutto è una di quelle persone che così almeno una volta all'anno ha il bisogno fisico di rivedere alcuni suoi film e oggi finalmente posso anche dirti una cosa il per me è stato fantastico quando ti ho conosciuto la quando ti ho visto la prima volta tempo fa in un negozio di dischi di Genova e tu entrasti perché lavoravi con il teatro dell'archivolto e il teatro dell'archivolto all'ufficio a fianco scoprire quanto sia bello nel cinema il come dire l'audio originale cioè le voci originali perché la voce di farina la voce dei film di salvatore era la tua non era il doppiaggio di qualcun altro e quindi io ritrovavo il personaggio e questo mi innamorò guarda questa cosa della voce è una cosa di cui sono grato alla natura perché io ho una voce molto particolare anche molto bassa non è una voce forte se vado al ristorante non mi sentono se vado a comprare dal insomma se vado a comprare un etto di prosciutto o due di ricotta devo farmi dovevo fare uno sforzo per tirarla fuori e all'inizio era un problema perché il teatro c'è stita che la cosiddetta voce non dico impostata ma appoggiata sul diaframma e io facevo molta fatica perché volevo mantenere comunque un tono abbastanza non quotidiano ma un tono realistico reale insomma non di quegli attori purtroppo un po italiani che hanno la voce impostata così da attore era il contrario con cui insomma il tipo di attore io sono cominciato facendo il clown poi il mimo il mimo clown e poi il teatro dell'elfo quindi era era un attore più fragile che forte anche attraverso la voce con lavorando imparando da alcuni maestri cercando di mantenere questa voce sempre io posso parlare abbastanza forte in teatro e mantenere una insomma il senso che non sto né urlando né facendo l'attore che odio e questa cosa qua appunto ringrazio perché è diventata quasi una cosa molto distintiva so che la mia voce particolare lavoro anche alla radio e mi piace moltissimo e quindi a volte mi è capitato di essere riconosciuto solo dalla voce assolutamente questa è una cosa che a me allora volevo solo dire una cosa poi mi direte voi che cosa posso raccontarvi io posso raccontare tantissime cose perché anche sono in effetti un po un attore un po atipico la tua presentazione che un po mi imbarazza un po anche vero nel senso che del viaggio faccio i miei racconti e del viaggio e il viaggio è la mia vita io non sarei qua se non avessi fatto certi viaggi e certe cose non sono l'attore che sono anche un po indipendente a volte marginale o periferico proprio perché viaggio magari sono partito in momenti in cui un attore avrebbe dovuto rimanere a lavorare al chiodo e allora per dirti un po in questo periodo così difficile perché soprattutto per gli attori di cinema un po meno adesso con fatica il cinema in realtà è molto ripartito con fatica perché devi fare tamponi ogni mattina e è obiettivamente problematico lavorare tutti insieme ma ce la si sta facendo per il teatro invece è un disastro perché tutte le tourne sono saltate il teatro guarda io sono io capisco la difficoltà psicologica di immaginare che il teatro non sia pericoloso ma in realtà se ci pensate a mente fredda con una certa logica è inspiegabile che si possa andare da itali dove ci sono veramente centinaia e centinaia di persone che si sfiorano che passano d'accordo con la mascherina o il ristorante e non si possa andare con tutte le misure in teatro quindi volte a per dire che per il teatro è sicuramente io sono stato in questo senso molto fortunato in questi periodi perché con il regista maifredi sergio maifredi con cui lavoro da alcuni anni lui è bravissimo ad avere idee e a collegare le persone a proporre allora lui ha proposto ad alcuni teatri ad alcuni circuiti almeno di provare e allora siamo stati sette giorni a trento a provare la nostra isola del tesoro e poi siamo stati vicino a perugia proprio nel momento in cui stava diventando zona rossa però per un attore provare anche da solo con il regista e un tecnico e con il palco sotto i piedi e comunque adesso andrò a provare con il teatro di pistoia addirittura ziovanni e di cieco e in sicurezza però saremo solo gli attori protetti sul palco sono sette attori non si sa se potremo debuttare questo per dire il lavoro nel nel teatro solamente poi poi finisco questo piccolo monologo auto raccontante però insomma questo forse è questo che volete da me anche che cosa fa un attore di questo tipo in questo momento così strano beh vi posso dire che ho appena finito un documentario di 25 minuti l'arci insieme ad altre realtà italiane hanno vinto un bando molto grosso contro la dispersione scolastica e quindi propone propone per le scuole ha chiesto a scultori pittori attori musicisti insegnanti di creare dei degli strumenti da affiancare al lavoro dei dei professori e dei maestri per la scuola e allora io potevo fare un racconto dei miei leggere qualcosa ma insomma mi sembrava allora mi è venuta in mente una cosa che mi sembrava interessante poi poi si vedrà perché ho chiesto all'arci di poterlo usare anche io e uno dei miei luoghi di studio proprio vicino a casa il luogo dove io vado a studiare all'aria aperta quando si può adesso è chiuso ma ho chiesto un permesso speciale poi vi dico anche come è il cimitero a cattolico di roma il cimitero a cattolico che è conosciuto anche come il cimitero dei poeti il cimitero degli inglesi è un posto uno dell'eunosi cittadina meravigliosa nel centro di roma dietro la piramide cestia dove sono seppelliti da gramsci a chizza shelly a gregory corso a carlo emilio gadda sandro penna adesso c'è anche camillerico molto famosa e allora ho proposto scusate ho proposto di fare un viaggio raccontato ai ragazzi un viaggio in cui in un luogo cittadino speciale in questo piccolo luogo in cui sono riunite in cui si possono collegare la memoria la storia di certi personaggi la natura perché questa è un osi nel senso che ci sono alberi alberi c'è tutta la macchia mediterranea ci sono le radici che collegano questo luogo nelle ne creano una specie di organismo naturale e culturale come le osi sapete che le oggi sono fatte dall'uomo e oggi sono ogni pianta ogni ogni palma delle oasi del sahara sono piantate e l'uomo ha creato la possibilità perché perché l'oasi quindi è sapienza civiltà cultura e natura e quindi ho fatto un viaggio di 25 minuti insomma questo per dirvi che sono riuscito a trasformare una mia passione un luogo dove io vado a studiare a imparare a memoria come fanno gli attori o a preparare una parte in un viaggio collegando tante cose diverse e questo oppure per esempio e poi mi taccio mi è giunta una proposta molto interessante voi conoscete cos'è il gabinetto di esso il gabinetto viesso è un circolo letterario culturale molto importante che quest'anno fiorentino fondato nel 1821 da un letterato colto aperto che ha in qualche modo creato l'unione della letteratura europea in questo luogo biblioteca ha cominciato a fare arrivare riviste europee dal 1820 in poi e questo centro si in cui si sono si sono conosciute le varie correnti culturali della dall'ottocento in poi in questo in questo luogo stanno insomma compiva duecento anni dal 1821 2021 sono duecento anni per festeggiarlo hanno deciso di fare dodici dieci o dodici conferenze diciamo chiamando dodici persone diverse che parlassero ognuno di una parola di una parola che che è una delle parole economia libro cultura geografia comunicazione alla parola che sono tutte parole che appartengono alla a questo luogo di incontro culturale di e di letteratura e di poesia una delle parole era viaggio e con grande piacere mi hanno proposto di fare diciamo così si dice una conferenza un incontro filmato che poi loro montano i manderanno sui loro canali allora mi è costata molta fatica perché l'idea di andare a parlare come un professore di viaggio non mi bastava per parlare di viaggio come dico in questo racconto ho fatto un racconto monologo un racconto portando i miei scarponi portando i miei taccuini portando il mio sacco da montagna che c'ha un buco fatto in un durante un viaggio cioè il viaggio è il consumo degli oggetti che viaggiano e lasciare i nostri atomi sulle alpi o in valtellina nel cimitero sotto casa o quando fai un viaggio più lontano o in un'isola del mediterraneo quindi ho scritto perché volevo che fosse che le parole fossero quelle e l'abbiamo registrato adesso aspetto di vedere come sarà il frutto per dire che ecco anche il viaggio anche 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 questo momento così difficile nel senso che per insomma non vi nego che ci sono dei momenti in cui gli attori i narratori i personaggi pubblici hanno da un lato finalmente l'occasione di stare fermi a riflettere a leggere a prepararsi da un altro lato manca il rapporto con il pubblico con la storia con la narrazione quello che sto facendo adesso non è la stessa cosa è certo è un stato per esempio io non vedevo l'ora quest'estate quando noi abbiamo avuto questa impressione che di libertà ve lo ricordate giugno luglio ci sono aperte le frontiere sembravamo liberi finalmente quindi al primo giorno di libertà io sono riuscito con il mio compagno raggiunge un seconda isola del cuore la prima è castellorizo l'isola del mediterraneo la seconda è un'altra isolona che guarda caso però comincia sempre con la lettera k anche lei ve la lasci indovinare non ve la non ve la svelo in quell'isola in cui sono andato per bisogno di cammina un'isola dove si può andare anche a camminare sulla parte del nord selvaggia è stata un'isola di cura perché certo eravamo in vacanza abbiamo fatto i nostri bagni ma soprattutto noi siamo andati per trovare una famiglia di greci di cui siamo innamorati e loro anche siamo molto amici in cinque anni siamo diventati come se fossimo i parenti italiani e insomma il nostro eh questi signori ci hanno sono due contadini con i loro figli e hanno dei campi che hanno una taverna in un luogo lontano dal mare dove ci ospitano e non ci fanno pagare niente e allora noi per ringraziarli ma soprattutto per contraccambiare questa ospitalità mediterranea straordinaria che ci passava anche un pochino perché quest'anno abbiamo credito che non potevamo neanche pagare le cene del colazio niente e volevano anche offrire a un nostro amico venuto con noi per insomma per per stare anche lui eccetera gli abbiamo chiesto se potevamo lavorare nei campi ora noi vogliamo a questo punto lavorare nella taverna io sono bravissimo a posso non tanto a servire ma a preparare la tavola e se voi mi permettete vorrei lavorare a tagliare il grano e così è stato ho imparato a tagliare il grano e questo mi ha fatto un benissimo proprio ho cominciato a respirare a stare tranquillo a contatto con la terra ma soprattutto io anche questo anno difficile devo essere il procacciatore di questi italiani perché ci sono dei gruppi di italiani che vengono e vengono anche in questa taverna perché una taverna caratteristica è molto buona allora io ho capito che potevo mettermi con la faccia di tolla che hanno gli attori con un con un come si dice un fazzoletto un tovagliolo sulla sul braccio e qualcuno c'era sempre che mi riconosceva come l'attore di mediterraneo e quindi sono riuscito anche a fargli capire che potevo procacciare i turisti e questo è stato messo messo me è stato stato a parte questa cosa qui è stato molto mi ha aiutato a sentirmi psicofisicamente meglio di questa cosa naturalmente questo per questa storia è diventato un pezzetto dello spettacolo beh intanto direi che ci hai dato uno spunto non due spunti non tre spunti una bella panoramica di spunti e detto che vorremmo conoscere anche noi questi amici greci e far parte di questa bella famiglia vorrei tornare un attimo alla stessa allo stesso discorso del lockdown in qualche modo perché giusto mediterraneo cominciava con una frase di un filosofo che è che diceva in tempi come questi la fuga per mantenersi vivi e continuare a sognare mi sentite ok perfetto in tempi come questi la fuga l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare durante lo da un comunque anche in questi tempi è un po il contrario cioè noi non possiamo fuggire però continuiamo a sognare perché comunque forse il sogno ci aiuta ancora di più adesso adesso ti ho ti ho sentito è vero questo è vero e ancora credo ci saranno ancora mesi di pazienza io sogno di poter partire ma so che non sarà così facile voi mi sentite bene vero mi vedete se mi muovo ci sono ci sono sì e proprio per questo sposto in un'altra parte della casa io io ci sono si sente bene no mi sposto e danno un attimo che mi sposto ok e voi parlavate che appunto non si può fuggire o è più difficile e allora che cosa che cosa può fare un povero un raccontatore narratore oltre a mettersi a scrivere pensare a che cosa mangerà alla sera studiare collegare eccetera se uno ha la fortuna di avere una compagna generosa e amorosa comprensiva può succedere che questa compagna nel marzo del 2020 vedendoti in difficoltà ti dica senti non puoi fare spettacoli non puoi uscire o andare in teatro facciamo che il teatro diventi la nostra cucina per una sera preparati vestiti dai dammi una mano io la mia compagna ha una scuola di musica i bambini piccoli i miei i miei bambini appunto la scuola l'abbiamo chiusa dai la buonanotte a loro con bruno munari per esempio questo è il libro ti metti qua ma faremo una cosa molto semplice senza tagli senza montaggio io ti giro cominciamo così e così è cominciato forse una dei dei regali di questo per me di questo di questo periodo perché da quella buonanotte di bruno munari ai bambini di musica minuscola che poi è continuata con le favole di rodari per i miei nipoti emma e diego i figli di mio di mio fratello se voi andate su youtube adesso e scrivete poesia salvaci tu viaggi in cucina troverete una biblioteca una libreria di 43 42 poesie registrate musicate da alessandra girate da lei messe poi sul canale youtube in cui praticamente noi è un lavoro immaginatevi non era una cosa così alla leggera io sceglievo una poesia scrivevo una presentazione di due minuti due minuti e mezzo massimo che si concludeva con la lettura e se voi vedete il catalogo di queste poesie ci sono tutte le passioni letterarie poetiche di un attore della mia età che vanno da cavafis a scimborsca a sepulveda a john berger a raymond carver a stevenson a magrelli a giuseppe grattacaso anche scoperto degli amici poeti grandiosi a chandra livia candiani di cui poi vi leggerò non una ma due poesie e c'ero netti che per esempio parlando della della grecia avrei voluto leggere itaca di cavafis che è una poesia famosa famosissima c'è una bellissima traduzione di nelo risi e un'altra signora che non mi ricordo che so quasi a memoria perché ho letto riletto e recitato milioni di volte anche ad amici in grecia però ho avuto la fortuna di trovare un libro di ceronetti che ha tradotto e scritto una bellissima pagina introduzione su cavafis e la traduzione di ceronetti è molto più 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 è un po' più difficile più era era per me nuova quindi per me era l'occasione di recitare sapendo che avrei avuto un pubblico e voi non sapete la sorpresa che queste piccole pillole insomma questi piccoli racconti durano 45 minuti poi li abbiamo cominciati a fare uscendo dalla casa della nostra cucina siamo andati in grecia appunto a luglio nella cucina di un nostro amico artista e abbiamo letto primo levi siamo andati a trovare degli amici in toscana e abbiamo letto un pittore una poeta bosniaco che si chiama izet izet sarailic se non lo conoscete è un libro in audi che si intitola chi ha fatto il turno di notte questo era un poeta che rischiava la vita durante l'assedio di sarajevo per andare in questo luogo in questo teatro quasi carbonaro durante l'assedio di notte perché i poeti i narratori salvavano la vita nel vero senso della parola dei disperati che la rischiavano chiusi sotto il pericolo dei cecchini di morire quindi diciamo da quello che era non uno scherzo ma un passatempo di una settimana è diventato un vero e proprio lavoro un vero e proprio impegno poetico abbiamo ricevuto bottiglie di vino in regalo abbiamo ricevuto messaggi di affetto poesie consigli perché mi rendo conto queste poesie che io poi lanciavo mandandole come una bottiglia un messaggio in una bottiglia con whatsapp insomma ci sono su youtube ma la grande il loro viaggio era su su facebook e whatsapp io l'unico social che so usare bene whatsapp mi diverto sono capace mi sembra semplice e quindi come da un momento di crisi espressiva comunicativa di distanza c'è anche la solitudine perché il fatto di non potersi adesso un po meno ma insomma noi attori abbiamo patito molto questa cosa la mancanza del corpo in scena dal vivo comunque insomma queste poesie in cucina e tutto questo avveniva mentre poi ovviamente si preparava da mangiare è diventato un lavoro di cui sono molto molto fiero e molto grato ad alessandra devo dire che ha imparato quasi un mestiere perché adesso gira con una nonchalance noi l'abbiamo visti per prepararci all'appuntamento con te se io che Maria Angela l'abbiamo visti non dico tutte 40 ma me ne ricordo un po e e li abbiamo consigliati ai nostri amici e questo servirà ancora a consigliarne ancora e sono veramente molto belli e tra l'altro fai complimenti alla compagna perché sono anche girati in maniera veramente professionale Fabio da artista vuoi fare una domanda Giuseppe sì 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 mi ha molto impressionato perché poi rispetto tantissimo Giuseppe come artista come persona anche e anche con la sua passione per le arrampicate per l'alpinismo ha detto una cosa bellissima due parole che erano tacquini e scarponi e sarebbe già per me un titolo stupendo per un documentario su su di lui no che già si presenta con il suo solito modo educato gentile e professionale sempre di rappresentarsi tacquini e scarponi mi è piaciuta tantissimo avrei una domanda che riguarda un altro film che non è mediterraneo perché su mediterraneo siamo tutti abbastanza credo preparati anche se non sappiamo tutto quello che c'è dietro tant'è che ancora adesso lui va in grecia e ha dei rapporti con quella terra no e pensavo a Porzius Porzius sì che cosa ti posso dire di Porzius non saprei ho riletto prima di vederci stasera ho riletto tutta la storia che ci sta dietro qual è il ricordo che tu porti di quell'esperienza guarda di quell'esperienza ehm forse dobbiamo dire che Porzius è un film su una su un episodio della resistenza un episodio molto doloroso della resistenza la resistenza voi sapete ehm siamo abituati certo a renderla eroica perché perché ci sono persone che hanno facendo una scelta hanno rischiato hanno sono state torturate hanno ma sono morte insomma e io poi vengo da un da un da una famiglia eh fieramente antifascista ehm però devo dire che in quel momento di guerra di violenza di rappresaglie purtroppo ci sono state poi come come spesso capita delle insomma delle storie nere brutte tristi questa è la storia in cui un gruppo di partigiani comunisti decide di vendicarsi sono come quelle faide di paese terribili si decide di vendicarsi di un trappello di comunisti di partigiani bianchi e azzurri ehm e li massacra è una storia terribile che andava assolutamente terribile perché poi questi immaginate l'ora di questa storia questi erano persone che si conoscevano avevano combattuto avevano soprattutto vissuto insieme nei stessi villaggi per un per un un orribile salto mortale della di violento di alcuni capi comunisti si decide che che questi eh dodici o quindici ragazzi devono essere trucidati è una storia tremenda che dimostra come eh l'ambiente della guerra la violenza anche quando poi devi devi partecipare con una scelta giusta di campo in realtà sei sei sotto il sei sotto la tirannia sì della morte della dell'orrore capito dell'orrore umano e quindi in questa storia tra l'altro quello che mi ricordo che mi aveva colpito per cui era sicuramente vanno raccontate queste storie non bisogna assolutamente avere paura di sporcare la il valore della resistenza il valore così come vanno raccontate le foibe non bisogna avere nessun pudore nessuna paura guai a fare quando ci sono le infamità vanno raccontate da una parte dall'altra sapendo che non sono uguali vabbè questo discorso lo sappiamo ma io interpretavo un personaggio terribilmente e dolorosamente perito era il fratello minore di Pasolini eh esattamente sì esattamente non mi ricordo il nome ma uno dei traumi della vita di per Paolo Pasolini fu che suo fratello che aveva deciso di partire partigiano non tornò mai e non morì eroicamente ucciso o dolorosamente ma morì ucciso dai partigiani comunisti eh che erano poi vicini anche giustamente anche alla al fratello Pierpaolo e quindi che eh che nella sua famiglia ci ci fosse stato questo questa cosa per lui fu un trauma e un dolore intimo di cui parlò molto poco cantò questo questo povero fratello finito in questa vicenda così oscura l'altro ricordo che ho è di un altro attore eh perché sapete il cinema ti ti fa conoscere in maniera intima e ravvicinata quotidiana quasi alcuni attori che magari hai conosciuto o di cui hai sentito parlare che poi magari non vedrai mai più e il caso è stato dell'incontro con Victor Cavallo Victor Cavallo era uno dei partigiani che morivano con me in questa storia Victor Cavallo è un è un personaggio leggendario è stato un non so come dire è stato un un teatrante geniale veramente dell'avanguardia era più grande un po' più grande di me Victor Cavallo era era considerato da Vin vi ricordate Vincent come si chiama? Price no no Vincent Gallo Vincent Gallo ah Vincent Gallo ok ok un attore particolare un attore un po' felice americano anche lui un po' maledetto lui venne in Italia e lavorò con questo sconosciuto allora Victor Cavallo e tornò in America dicendo io ho lavorato con Victor Cavallo era un era era un intellettuale profondissimo era un grande romanista capace di raccontare le partite della Roma ma come un grande purtroppo Victor Cavallo aveva una fatica era quando l'ho incontrato io era era la fine della sua vita faceva faceva fatica a vivere e ho quindi ho visto questo spegnimento di un non so se un genio non era un genio ma era una persona profondamente sensibile che non ce l'ha fatta a vivere ecco quindi il racconto mio era di una storia dolorosa dal punto di vista politico e culturale poi il film è venuto in parte in parte secondo me c'era anche Gianni Cavina però mi ha permesso di di avere questo ultimo rapporto con l'anima di un attore molto particolare fragile potente e quindi a volte a volte i film sono esperienze umane profonde magari magari non funzionano tanto come film perché come dice c'è un bellissimo racconto gioventù un racconto di Conrad si chiama gioventù e inizia ci sono a volte può capitare a volte fate fate di tutto perché qualcosa funzioni fate di tutto andate contro contro alcune alcune cose che alcune vostre decisioni nella vita di scapicollate da una parte all'altra della del cosa così eppure le cose non vanno le cose non funzionano è così la vita lo sapete non basta metter bisogna mettercela tutta bisogna cercare di essere delle persone preparate insomma serie lo sappiamo ci sono i maestri di recitazione famosi che dicono c'è solo un modo per fare un bel film una bella scena lavorare 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 a volte lavori 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 e viene 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 in una cosa mediocre purtroppo questa bisogna cercarlo allora mi viene viene in mente una cosa per che mi ha fatto viene in mente eh giusto Fabio eh che parlava di Mediterraneo e diceva che sappiamo tutto di Mediterraneo però eh a me era capitato di leggere la scenoggiatura di Monteleone e nella scenoggiatura c'erano delle scene che sono state tagliate e eh ti chiedevo se sono state girate poi queste scene qua una in particolare era che quando Diego Battantuone dice che la truppa si annoia come idea la prima cosa era la la princea che scavalla nel princea poi fai la copia e la seconda era siamo in Grecia facciamo i giochi olimpici infatti c'è una foto dovevo essere una bellissima foto per i cento metri abbiamo fatto le olimpiadi tutte le crotte i pantaloni corti bianchi era troppo però io non so pagherei qualcosa per la scusa devo fare un inciso Antonello tu sei una persona seria e sei una persona se abbiamo una certa vi rendete conto che noi stiamo parlando ancora di un film che quest'anno compie 31 anni stiamo parlando ancora di una cosa adesso io voglio dire è una cosa pazzesca io sono contento mi sembra un miracolo e adesso fra un po' vi faccio vedere una cosa che mi fa ridere però questo è bisogna accettare quando le cose succedono e sono fortunate bisogna accettarle quindi siamo qua ancora a parlarne io torno ogni due anni quest'anno dovrebbe essere l'anno in cui devo tornare nell'isola il mediterraneo ogni volta mi commuovo beh sono io spero di ottenere la cittadinanza onorata o invito anche in morte mi basta una una targhettina mi metto una targhetta questa è la casa di vassilista e non mi non mi vergogno più se mi chiamano farina che a volte ci sono dei tassisti a genova che mi dico ma tu sei farina no sono farina sono giuseppe non me ne frega più niente prima ero molto orgoglioso stupidamente così adesso sono contento quindi mi sono mi sono sposato con me stesso tre anni fa ho compiuto i 60 anni e sono andato con 35 familiari 38 tra amici e familiari nell'isola e quindi ho fatto anche quello che vi devo dire ragazzi allora le scene non girate mi fa molto piacere che parliamo di Enzo Monteleone perché non solo è un amico ma è un grande sceneggiatore e si deve a lui oltre che a Gabriele Salvatore naturalmente sia un pezzo di Marrakesh Express che un pezzo di la sceneggiatura di Enzo Monteleone poi se non c'era Gabriele Salvatore che la faceva così in questo modo forse non ci sarebbe pensato il film ma intanto chi aveva mai scritto un film nessuno dava una cicca una cicca un soldo a una sceneggiatura di guerra italiana non si è mai visto i mezzi erano quelli per fare un film da 0,3 lire veramente noi siamo stati veramente dimenticati sull'isola volevano continuamente tagliare scene le eh non volevano tagliare la scena della 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 nave noi abbiamo fatto lo sciopero bianco cioè non siamo andati sul set se non ci promettevano che e poi abbiamo fatto tre scene importanti che sono state tagliate forse la scena più divertente che poteva essere così è quella delle olimpiadi che era veramente delle olimpiadi degli straccioni però quella mentre invece altre due scene eh nella sceneggiatura di Monteleone c'erano degli inserti mitologici cioè la la Grecia oltre a cambiare a farci diventare ehm a farci noi perdavamo il senso del tempo abbiamo perso il tenso del tempo siamo diventati abbronzati straniti il vento il meltemici ha veramente cambiato ma in quell'isola in quel film succedevano cose in un realismo fantastico cioè a un certo punto ehm eh i i due fratelli Munaron si si immergevano con la pastorella nudi nell'acqua e la pastorella diventava una sirena e in un film americano con milioni di dollari si è piuttosto bellissimo ma mai siamo abituati a cose quello non è niente noi avevamo un eh macchinista di cinecittà con un pezzo tagliato di una coda di sirena che doveva muoverlo così nell'acqua che non sarebbe venuto fuori niente come così come a un certo punto i alcuni dei soldati in un colpo di sole sulla montagna incontravano Omero il narratore questo vecchio greco bianco che gli che gli guardava e anche questo però poi non era venuto all'altezza della cosa e questo vecchio signore che si era che si era prestato a stare tutto un giorno sotto il sole vestito da Omero l'anno dopo dice io ho io ho guardato film ho guardato il film ma Omero non c'era che fine ha fatto Omero è stato tagliato e quindi questo è quanto ma eh direttore eh dovremmo andare Giuseppe ma se hai una domanda eh beh ma di Angela tu e tu vedete un po' insomma ma più che direttore Paolo buonasera a tutti buonasera eh grazie perché alla fine abbiamo viaggiato e alla fine stiamo viaggiando e che è un modo sia tra l'altro a me la parola resilienza piaceva molto prima peccato che ce l'abbiano se l'abbiano costretto peccato perché se vogliamo il viaggio che stiamo che anche oggi grazie grazie a Giuseppe che ha raccontato ma anche a Fabio e ad Antonello che hanno fatto le domande per facilitare questo viaggio eh in in teoria se non avesse se non fosse diventata una parola scontata eh il viaggio che ci siamo proposti eh è una forma di resilienza perché finalmente è cercare di visto che non possiamo viaggiare che speriamo di poterlo fare almeno ce ne raccontiamo e anche eh l'operazione poesia salvaci tu che di cui di cui si è di cui Giuseppe ha raccontato prima eh sono molto curioso di sentire di continuare a sentire come vive un attore eh questa stanzialità stanzialità forzata ecco perché mentre ehm chi più chi meno ehm abbiamo un lavoro fermo che che è collocato in uno spazio ben ben delineato chi invece deve per lavorare deve incontrare persone raccontare credo che abbia tante difficoltà oltre alle difficoltà sacrosante che sta vivendo tutto il mondo dello spettacolo ehm quanto in effetti la domanda che sto facendo che vorrei fare è proprio questa visto che si parla tanto di residenza eh e invece in questo caso finalmente lo stiamo la stiamo vivendo nel modo migliore eh mi chiedo fino a che punto eh un attore riesca a trovare eh ancora forza eh nel nel creare le condizioni per pensare a qualcosa di di più e di meglio di quello che stiamo vivendo guarda ehm sicuramente questo questo esempio della della poesia adesso io ho per esempio una una poetessa una poetessa amica di Milano Vivian Lamarck se non la conoscete andatela a cercare perché è una grande poetessa nonostante il nome milanese Vivian Lamarck mi ha mandato una sua poesia e mi ha detto questa poesia è inedita te la mando solo per te perché è un po' lunghetta forse non la metterai invece è una poesia bellissima adesso non voglio levarvi la sorpresa quindi non ve la leggerò però per dirvi che questa cosa qua incomincia a diventare anche un una scoperta di cose uno stimolo un rapporto tra persone reale che una poetessa mi mandi una poesia e e io invece da una settimana perché non ho avuto tempo di farlo adesso in questa settimana la registreremo è una cosa che non mi aspettavo però io sono fortunato in questo Paolo devo dirti per esempio io adesso vi lascio perché domani mattina alle sei e mezza mi vengono a prendere con la macchina mi portano a un'ora e un quarto da Roma vicino a Subiaco a girare un film di cui ho già girato una scena e ancora devo girare poco meno di una settimana dove faccio una piccola parte una parte interessante perché è un dottore specializzato nelle malattie del sonno c'è questa bambina che non dorme che ha degli incubi terribili che sono degli incubi reali in realtà dove noi pensiamo di vedere una specie di strega di mostro ma si chiamano paralisi ipnagogiche ho studiato e adesso ho un appuntamento tra esattamente otto minuti con un dottore psichiatra amico che mi deve spiegare una cosa che non ho capito perché nella scena di domani e quindi per dire questo questo è anche anche questo vedi è un'occasione per parlare con un dottore che mi spiega cosa devo chiedere a questa bambina che c'è scritto nella sceneggiatura ma volevo avere qualche cosa prima di lasciarvi però vorrei leggervi una poesia mi permettete vado nello studio a prenderla e torno voi intanto chiacchierate chiacchierate avevo promesso a giuseppe che avremmo fatto una mezz'oretta 40 minuti praticamente siamo quasi vicini allora mi dispiace non aver dato a tutti quanti la possibilità di parlare maria angela devo dire che direi penso di scrivere un po il pensiero di quasi tutti è talmente stato un piacere ascoltare il racconto di giuseppe e poi con come dire gli intramuscoli di fabio e tuoi come dire si è indirizzato al meglio il discorso e come diceva paolo abbiamo goduto di un viaggio è un narratore un viaggiatore vado solo eccoci cari amici eccoci allora questa è una poesia di di chandra livia cambiani che spero che conoscerete frequenterete perché se ci sia che ci sia chandra livi da cambiani in questo mondo che esista che scriva e che noi possiamo leggerla e comunque sentire la sua presenza è una grande fortuna un libro su tutti il suo oltre l'ha scritto dieci libri di poesie ma vi consiglio per conoscerla e per aiutarvi aiutarci a vivere meglio un libro che si chiama il silenzio è cosa viva è un libro di meditazione quotidiana di prendetelo fidatevi a scatola chiuda il silenzio è cosa viva vi aiuterò vi aiuterà nei momenti belli nei momenti dolorosi nei momenti della nostra vita che sono fatti di momenti belli e dolorosi insieme come sappiamo e questa qua è una poesia dal suo ultimo libro che si che si intitola la domanda della sete e ve la leggo piano piano è una poesia non corta non lunga molto beh spero che in qualche modo vi parli come ha parlato a me vado la poesia dice così credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda credo nelle foglie della sofora che stanno per raggiungere la mia mano alla finestra e di notte lo so mi fanno la guardia credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azioni e ci dispone ad arrossire e a porre rimedio credo agli alberi spogli che scrivono se stessi in cielo ai versi che rallentano fino al sonno degli uccelli credo nei fili negli equilibri precari nei sentimenti all'aperto provati dalle bufere spezzati dal tempo della durezza e dell'abbandono credo a quando mi ascolti raccolto intorno al futuro come un chicco di riso e a quando parli senza intenzione alcuna credo alle virgole ai punti e al bianco che fa silenzio e consegna la prossima parola credo nel fermarmi ora abbraccia aperte piccolissima nel paesaggio della nostra intricatezza quanti 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 momenti quanti momenti ci sono qua dentro e questa poi valletta riletta bisogna guardarla ragazzi buon viaggio a tutti a tutte grazie di questo grazie a te per l'incontro se ci sarà occasione quando si potrà ti invitiamo a venire in biblioteca universitaria a parlare di poesia viaggio e di magari un nuovo libro che scriverai oltre a quelli che hai già scritto e ti ringraziamo veramente di cuore per questo bell'incontro grazie a voi ciao ciao giuseppe ciao 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 a tutti grazie abbiamo spento tutti ciao ecco